La cassa di Daniele Imperi Non avremmo mai dovuto aprire quella cassa. Proveniva dagli ultimi scavi in Egitto, nei pressi di Giza, dove la notte sinistre ombre si mescolano a quelle delle antiche piramidi. Quando tutto accadde, eravamo nel mio laboratorio. C'era qualcosa che mi inquietava in quell'oggetto. Così avevo detto al mio collega di distruggere la cassa, indicando il suo legno antichissimo e gli strani simboli incisi. Ma era troppo eccitato per darmi ascolto e, né la sua forma insolita, né la luce verdastra che emanava dagli interstizi fra le assi di legno, lo fece desistere. Adesso rimpiango di non aver tentato di fermare il mio collega. Ma non sono sicuro che fosse servito a qualcosa. Era più robusto di me e anche più determinato, come accecato da quella scoperta che avevamo fatto assieme ai servitori ingaggiati a Giza. Ora so che nessuna scoperta fu realmente dietro il ritrovamento di quella cassa, ma soltanto una terribile, malvagia vendetta. Nei sotterranei oscuri e inviolati delle antiche piramidi si nascondeva un'entità indefinibile che avremmo dovuto lasciare indisturbata a dormire il sonno dei millenni. Ricordo la paura dei servitori quando scendemmo i consunti gradini fino all'immensa sala piena di corridoi. Fu là che lasciamo gli uomini a raccogliere il materiale trovato, un immenso tesoro senza nome, i sarcofagi dalle dimensioni impossibili, e la cassa che se ne stava a sinistra e silente in mezzo all'enorme stanza. Quando l'aprimmo, un urlo strozzato e immondo si levò dalla gola del mio collega, da cui usciva un fiotto di sangue continuo. Guardai le mie mani, erano macchiate del suo sangue, e io avvertivo qualcosa dentro di me. Ciò che fu liberato quella notte, oggi ancora si aggira fra le strade buie della città. si nutre della vita e, se vista da vicino, quella cosa senza nome ha le stesse mie sembianze.